Ragazzi c'è da ordinare le pizza, gli avvia esse tardi E' sempre occupato Andiamo ragazzi, prima chiudino Più più le fanno d'asporto dall'otto un poi Aspetta, gli richiamo Voi o me la volete? Pronto? Sì, grazie, senta E volevo delle pizza d'asporto Se è possibile Ma per l'otto un ce la fate? Quarta all'otto massimo c'è verso, non so Allora senta, a me mi fa una margherita se c'è verso con la bufala Aspetti Ammetto mi fa una parte il formaggio e i mas... Quei ragazzi vogliono lo specchio e mascarpone se c'è Impasto veloce Una bufala Mi dispiace, ma la bufala la sei finita Ah, allora una con il salamino piccante Ma il salamino piccante non si fa E vai, un cofaccino Muriacciughe Apio, ce la finiamo tutta, apio So se mi spiego, apio No Ascorta, senti, ma il carzone lo fa Sì, sì, quello si fa Allora Però finiamo i punti Mi riuniamo a sapere Che la vostra, mi ci metti a posto della vostra Vostra ai flughi che ci vuoi Tu mi ci metti Aspetti, ti richiamo Oh, ascolta, perché non si è a mangiare un lampredotto? Eh? Oh, ascolta, perché non si è a mangiare un lampredotto? Grazie a tutti